I ritmi frenetici, la fatica, i sacrifici, la tensione, lo stress della vita quotidiana. Basta poco per entrare in crisi. Qualche volta si invoca un aiuto, un sostegno che faccia andare avanti, stringere i denti e portare a termine i propri obiettivi. Il supporto esiste ed è tutto naturale. Si chiama Cordyceps sinensis ed è il fungo medicinale conosciuto da millenni per le grandissime potenzialità sul corpo umano, che è alla base di Performance Forte di AVD Reform. Performance Forte è un integratore alimentare che miscela diverse tipologie di Cordyceps, Rodiola, Cromo e Magnesio per un'azione immunomodulante sul sistema immunitario e di miglioramento della resistenza fisica per chi pratica sport. Performance Forte di AVD Reform, una vera scelta da campioni.